Bentornati su No Mamamazzo e buon Ferragosto! Come state passando la giornata di oggi? La state passando nel caldo sole del mondo esterno? Magari davanti a una griglia o accanto alla griglia di un vostro amico? Divertendovi oppure in piscina in tutti i posti dove c'è questa temperatura di 40 gradi? Oppure siete dei tipi di persone che come me piuttosto che stare al sole e preferirebbero passare in villeggiatura un bel weekend a Daga Dark? Fatemelo sapere mentre parliamo proprio di questa fantastica, rinomata cittadina del popolo dei tumult, del popolo dei nali, in Calia numero 10, Prigione di Roccia. Bentornati su Teia, bentornati su Calia, bentornati nella rubrica fantasy, nella rubrica Fumetti, come sempre questo numero che sta volgendo diciamo al termine della sua prima stagione, questa storia, scusate non questo numero, questa storia che sta volgendo quasi al termine della sua prima stagione perché Calia si sa sarà scandito in stagioni come nelle serie televisive e perché lo dico, perché lo so, perché nella quarta di copertina ci sarà una battaglia ad Obur, quindi immagino che il viaggio sta volgendo al termine. Questo viaggio è stato scritto ancora una volta, come sempre, da quattro mani, da Luca Lamberti e da Leonardo... Luca Lamberti, oggi le consonanti sono in vacanza. Luca Lamberti e Leonardo Cantone. I layout, ci tengo a dirlo in questo numero perché devo farvi notare una cosa, sono sempre di Luca Lamberti e i disegni sono di Alessio Zanon che continuano questo viaggio dei nostri eroi, della nostra compagnia, la compagnia dell'Alkest, se così vogliamo chiamarla, che da un paio di numeri ha aggiunto un membro alla cotanta compagnia che è appunto il nano Bael. Se seguite i miei video sapete che io ho apprezzato con entusiasmo questa novità perché adesso mi sa proprio di compagnia eterogenea di specie che ricorda proprio il classico fantasy tolkeniano. E nel numero di oggi proprio conosciamo molto di più, se non tutta la storia, appunto di questo nano, addentrandoci nel suo regno. E quando dico suo regno intendo dire suo regno, per citare il principe cercamoglie, perché lui è l'erede al trono di Agadark. Questo fantastico regno che si estende nel sottosuolo, così come siamo abituati ad associare la razza, la specie nanica, anche se qui è dovuto a un altro motivo che Bael spiega divinamente in questo numero. Quindi ci sono tanti balun, tanti racconti, ma non sento assolutamente il peso dello spiegone. Anzi, sono incantato nello scoprire la storia del popolo dei Tumul e del perché si sono rifugiati nell'entroterra dopo un passato molto prospero, appunto, al di fuori. E prima della battaglia di Obur ci si ferma, ci si ferma perché Aridan è gravemente ferito. Tra l'altro, per l'occasione, io sono la foto del dopo Aridan, dopo che è stato dal barbiere, anche se io ho il naso. Cioè, Aridan, in questo numero, finalmente mostra in quanto essere umano di sesso maschile, di genere maschile, che sta facendo capire il trascorrere del tempo, con una barba molto folta, finalmente, perché chiaramente Bael già ce l'ha perché è un nano. I goblin non sembrano avere peluria, le due signorine, ovviamente, non hanno peluria facciale evidente e l'elfo è bello che è morto, quindi, anche se l'avesse avuta, è in uno stato di stasi, quindi non ci può far capire. L'unico, appunto, era Aridan che, appunto, ha cambiato il look a causa di questo viaggio pieno di peripezie. Viaggio che, appunto, in questo numero si ferma, e devo dire che quando succede in Kalia sono molto contento, perché, appunto, Kalia è dal primo numero che questi poveri disgraziati stanno camminando, e per quanto sia, diciamo, proprio il pilastro del fantasy, no? Il viaggio nel senso fisico del termine, è bello vedere che ogni tanto facciano delle tappe e si fermino in luoghi che non siano un bosco attorno a un fuoco per dormire. Qua vanno proprio in un regno e hanno una, diciamo, non un contrattempo, sono fatti prigionieri, proprio perché il popolo dei nani è parecchio ostile. È ostile a prescindere a quanto ci spiega il nano Baile, ma è ostile soprattutto con lui perché, appunto, al posto suo a regnare c'è, appunto, un reggente che è un cugino che vuole il trono. Quindi questi intrighi di corte, tutti insaporiti di fantasy, ho sentito questi intrighi di palazzo tipici di Game of Thrones, insomma, ho sentito molto di più anche il sapore di Denethor, no? Questo reggente al trono che sta aspettando il ritorno del re, ma che quando il re si sta avvicinando in realtà non vuole mollare il trono. Qua il cugino è ancora più stronzo, cioè il cugino proprio vuole far fuori Baile piuttosto che cedergli il trono. E c'è una cerchia di nani fedeli a lui che davvero si comportano nella maniera peggiore possibile. Cioè, qua siamo a livelli di bad cops, di polizia bastarda. E è stato davvero fastidioso vedere, appunto, questo comportamento che è stato finalmente un attimino attenuato solo alla fine. Solo alla fine si vede questo consiglio, solo alla fine si vedono questi alleati. Mai come in questo numero ho controllato a che pagina eravamo, perché ho detto, ma è una doppia storia, perché siamo a pagina 90 e ancora non la stanno facendo franca i nostri beniamini. E solo alla fine ci concediamo, solo a pagina 96, ci concediamo un po' di sollievo, un po' di rilassamento, un po' di riposo, dove vediamo anche Aridan finalmente curato, ma tutto il tempo siamo stati con l'apprensione che Aridan potesse anche non farcela, perché delirava dalla febbre. E tutto questo senso di oppressione e di claustrofobia è incasellato perfettamente dai layout di Luca Lamberti. In questo numero, soprattutto all'inizio, mi sono chiesto ma i layout sono sempre di Luca Lamberti, perché sono molto diversi da quelli dei numeri precedenti. Come mai questo cambio di rotta? Sono andato a controllare e ho detto, sì, sono ancora suoi. Perché? Perché ha voluto dare dei confini così netti, così squadrati? La griglia è sempre molto moderna, intendiamoci, però guardate che linee nette, molto più spesse, molto più in grassetto. Non capivo perché di questa scelta, poi ho finalmente capito che appunto era una scelta stilistica. Io l'ho interpretata come un senso di chiusura. Noi in questo numero andiamo sottoterra, andiamo in una prigione e tutte le vignette sono chiuse, hanno questo margine molto spesso da cui è impossibile uscire. Non sono stato tantissimo a controllare, ma non mi pare di aver visto neanche uno sforamento dalla vignetta da parte di nessun personaggio. Tutti i personaggi stanno esattamente dentro le vignette, nonostante sappiamo che in Calia si possa appunto sforare tranquillamente, si possa prendere questa libertà artistica, ma non in questo numero. Non in questo numero perché siamo imprigionati, siamo prigionieri del regno di Aga, ad Ark, l'ho imparato quindi lo ripeto spesso, e questa cosa l'ho sentita, l'ho sentita non subito, ma quando l'ho sentita l'ho apprezzata tantissimo. Ecco, c'è un momento, siamo però a pagina già 60, dove c'è il testone di Tag che sfora qua, però tendenzialmente sono tutti tutti all'interno di questa griglia in grassetto. Questa cosa l'ho apprezzata. Non ho tantissimo altro da dire su questo numero, ma non in senso negativo, nel senso che mi è piaciuto, me lo sono goduto dall'inizio alla fine. L'ho letto anche, ammetto, pian pianino, l'ho letto prima di acquistarlo, cioè ho leggiucchiato qualche pagina ancora mentre ero nel negozio dove l'ho acquistato, quindi l'ho letto in alcuni, in momenti diversi, ed è stato un bellissimo viaggio, ho viaggiato insieme a loro, e mi sono davvero divertito, divertito Dio, quando erano in prigione non tanto, però è stato davvero bello. Non ho proprio da dire nulla di che, perché proprio me lo sono goduto dall'inizio alla fine, a tutte le cose che magari in altri numeri, magari un po' storcevo il naso, e magari erano pochi personaggi, adesso ce ne sono di più, adesso la compagnia è più eterogenea, e sono sempre in viaggio, adesso si sono fermati, stanno combattendo, nel prossimo numero ci sarà una battaglia, e ma ho sempre visto delle eccezioni, qua vediamo la regola, qua vediamo il popolo nanico nel suo splendore, corrotto da un regnante distorto, però comunque vediamo come è la razza nanica, quindi hanno aggiustato, se così si può dire, tutte le cose che mi davano incertezza all'inizio, ma questo era un viaggio che Lamberti e Cantone sapevano già dall'inizio che saremmo arrivati qui. Semplicemente noi, noi lettori, io in particolar modo, che magari sono abituato a numeri bonelli di molto più verticali, avevo questa smania, questa fretta di vedere le cose aggiustate, diciamo così, fin da subito, ma non è questo il fantasy, il fantasy ti deve far un attimino assaporare il viaggio, ti deve far anche faticare la gioia che arriverà alla fine, e la gioia sta arrivando, sta arrivando, sicuramente nel prossimo numero vedremo una grandiosa battaglia, non lo so, magari durerà anche due numeri, chi lo sa dal momento che è l'undici, magari anche nel dodici ci sarà una battaglia, oppure ci sarà un fantastico epilogo, non lo so, lo scopriremo insieme il prossimo mese. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero, dove l'avete letto, se l'avete letto in vacanza, o se l'avete letto appunto nel buio di una grotta in un regno nanico, scrivetelo qua sotto nei commenti, io come sempre, con l'inchino e con l'imbuto, vi saluto e vi dico arrivederci, al prossimo video. Grazie a tutti.